Elvis ha un sogno, quello di potersi spostare e vivere come ogni altro ragazzo di 31 anni. Quella che vi raccontiamo oggi è la storia di un ragazzo fanese che come tanti vive una condizione di disabilità e di lotta quotidiana, anche solo per entrare dentro l'ascensore di casa, un vero percorso a ostacoli che la carrozzina che ha gli rende ancora più gravoso. Una lotta che divide col padre Raimiro Presenzini, 70 anni, ogni volta che arriva a casa dal centro, smonta, rismonta, sposta, alza di peso e rimonta ancora, ma che ora sta cercando di ottenere dall'Ausl di Fano una carrozzina per verticalizzazione che gli consenta una quotidianità migliore, ma che la scorsa settimana un funzionario dell'Ausl gli ha negato. Ramiro, di cosa soffre Elvis? Allora, tetraparesi spastica, gli altri inferiori e superiori. Il problema mio è il gestire Elvis quando viene a casa il sabato per il weekend. Cioè io lo devo portare in ascensore, l'ascensore è stretto, è piccolo, e quindi per portarlo dentro lo devo faticare immensamente, devo smontare la carrozzina, la devo prendere di peso, Elvis sarà sugli 85 kg, con la carrozzina che è più o meno altrettanti, la devo inserire nell'ascensore e angolarla in una maniera tale per poterlo infilare dentro, perché io abito al terzo piano. Ti sei rivolto alle strutture pubbliche, ma non hai avuto la risposta che ti aspettavi? La risposta, tutto negativo. Il mio problema è che ho visto, mi è stato consigliato un tipo di carrozzina che si eleva verticalmente e mi dà la possibilità di poterlo inserire in ascensore. E per me questa è già una cosa molto utile, perché poi quando lui è in casa, fra l'altro, ci sono anche altri problemi. Il problema un altro è quello di metterlo nel letto. Se io avessi questa carrozzina, la carrozzina ha anche la seduta bascolante, il che mi dà la possibilità di prenderlo, elevarlo bene e metterlo nel letto. Secondo qualcuno, la carrozzina non è adeguata a Elvis, perché Elvis ha le ginocchia praticamente chiuse, perché non estende bene le gambe avendo una lussazione alanca. Raimiro è abituato a combattere, da giovane è stato campione di lotta greco-romana e non si arrende, anche perché la carrozzina rientra nel nomenclatore tariffario del Servizio Sanitario Nazionale. È prescrivibile quindi. E la dottoressa della medicina riabilitativa di Fano, infatti, l'ha prescritta. L'ha prescritta dottoressa Mosci, che conosce Elvis da quando noi abitiamo, circa sono 15 o 20 anni che abitiamo a Fano. Lo conosce, conosce la sua storia, conosce le sue problematiche. E invece dall'USL c'è stata una negazione? Negativo totale, cioè anzi sono rimasto molto male, perché Elvis ci teneva molto, perché per me era come un regalo di Natale se fosse arrivata. E purtroppo siamo stati bocciati. Elvis con la nuova carrozzina potrebbe fare tante cose, ed il papà il sogno di vedere Elvis felice. Anche Elvis ha un sogno, andare al mare e fare una passeggiata proprio col suo papà. Un sogno che però per il momento gli è stato negato. Io vorrei rivolgere a quel tipo, a quel giustiziere, come lo dico io, colui che mi riniega questo sogno. Vorrei che fosse lui al mio posto. Grazie. 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 Grazie.